Bisogna farlo davvero, cioè, ma... Oui, oui! Il progetto serio, il baguette, molette du vomage, copiones, reggi tutos! Perché parli così? Perché... Je suis... De legende! Hai sempre sognato un gioco innovativo e... Con la grafica fantastica e... Thermobile... Fantastico! Bene, sei nel posto sbagliato, non è così... Serious, scopiones! Bene, sei nella pagina giusta. Se hai sempre cercato un gioco per mobile con grafica fotorealistica e... Gameplay innovativo... Demons Rising fa per te! Che cazzo di nome è? Reggi, è il copiones! Tutto questo diventerà in realtà solo grazie al tuo aiuto! Sei un fan sfegardato di... Dell'Extraction of the Universe? Non vedi l'ora di giocare nei panni dei tuoi eroi preferiti? Perfetto! Il gioco è in sviluppo su Real Engine 4! I nostri fantastici sviluppatori sono già in... Sono già al lavoro! Il gioco sarà un action platform con modalità principale la storia. Il gioco, sfortunatamente per mancanza di fondi, verrà pubblicato sugli store solamente in versione... Early Access con solamente una modalità Endless. Solo grazie al tuo aiuto riusciremo a portare il progetto a un buon punto! Bene, se sei interessato e hai i soldi da buttare, i pacchetti sono quelli che vedi qui! Non vedo un cazzo però... C'è la paghe, c'è scritto nel copione! Vaffanculo, figa da buttare! Con una spesa minima di 40€ otterrete la maglia del gioco con questo logo o del canale YouTube della serie The Destruction of the Universe con questo logo! Tutte le spese riceveranno come ricompensa il proprio nome e una dedica nei titoli di coda del gioco. Tutto, infatti, ricavato sarà solamente speso per la serie, per lo sviluppo del gioco e per la velocizzazione del processo. Tipo, se ci date 20.000€ di una continua moto... Vi prego, aiutatemi, mi tengono prigioniero... Non c'è scritto quello nel copione! Non c'è scritto un c***o! Se mi stai sentendo, aiutami nella ribellione contro gli eroi! I demoni! I c***o! 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 Ah, lo stava dicendo al contrario!